Come memorizzare la data della battaglia di Poitiers? La battaglia di Poitiers si svolge nel 732 d.C. Carlo Martello riesce a fermare a Poitiers l'avanzata dei musulmani. Per ricordare questa data basta aggiungere 110 anni all'altra data che dobbiamo ricordare, molto importante per i musulmani, la data del Leggira. Leggira avviene nel 622 d.C. Aggiungendo 110 anni abbiamo 732 d.C. Questa data è importante perché grazie alle vittorie sui musulmani Carlo Martello farà incoronare suo figlio Pipino Liberewe, Re dei Franchi. A sua volta Pipino Liberewe dividerà il suo regno per i suoi due figli Carlo Manno e Carlo che diventerà Carlo Magno, che diventerà imperatore del Sacro Romano Impero nell'Ottocento. Ciao al prossimo video, vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!